L'applicazione che abbiamo sviluppato per Alice è una web app composta da un'interfaccia amichevole per l'alunna in modo che possa accedere ai contenuti didattici realizzati dai propri insegnanti in quasi completa autonomia. È composta inoltre da un'interfaccia per i docenti in modo che possano aggiungere e gestire nuovo materiale da proporre all'alunna. Per inserire nuovi argomenti i docenti dovranno effettuare un login con nome utente e password. Dopo aver fatto il login si accede alla parte relativa alla gestione del materiale. Qui è possibile aggiungere una lezione scegliendo un nome e una materia e inserendo le immagini negli audio che a coppia andranno a costituire la lezione. Invece qui è possibile modificare quelle già caricate. Ordinate per materia e scelto una materia si possono vedere tutte le lezioni presenti. Scelto una lezione è possibile rinominarla, aggiornare le foto degli audio, presentarla come principale e infine eliminarla se non serve più. La parte di Alice è composta da quattro bottoni all'interno dei quali sono raggruppate le varie materie divise per ambito. Quando premuti i bottoni rilascia un feedback vocale in modo ad agevolare l'alunna nella navigazione. Di maiuscola All'interno dei quali troveremo quattro materie, per esempio cliccando su arte Troveremo un'immagine composta da un audio correlato. Il romanico è il periodo che va dal mille... Se la lezione è composta da più immagini e audio, per cambiarla basta fare un clic sulla destra. L'architettura si divide in civile e... Infine è possibile cambiare la lezione cliccando sul bottone in basso a destra. Cambio dispensa Grazie a tutti.